Buongiorno ragazzi da Monica di Opera d'Arte. Oggi mi vedete un po' in controluce perché sono davanti alla finestra di casa. Nell'attività che vogliamo proporvi con il video di oggi potremo vedere insieme dei bellissimi paesaggi in alcune opere conservate nei musei civici e poi l'idea che vi vogliamo suggerire è quella di guardare dalla finestra e senza dover viaggiare andare lontano o avere chissà quale orizzonte davanti a noi possiamo cogliere tutto quanto di bello anche semplicemente dalla nostra casa possiamo vedere. Ma adesso osservate i quadri così potrete prendere qualche spunto interessante. Ciao a tutti e grazie. Ecco il primo paesaggio che possiamo vedere insieme. C'è la neve, siamo in montagna e il pittore Guido Cinotti ci mostra i meravigliosi riflessi che la neve assuma alla luce del sole. Non è affatto bianca. Parlando di riflessi questo quadro di Pompeo Mariani ci rappresenta un tramonto che incendi al cielo questa volta al mare. Stiamo vedendo il porto di Genova che a lui era molto caro. Ma Pompeo Mariani era un grande viaggiatore, qui addirittura va in Egitto, un orizzonte amplissimo, un cielo immenso, la sabbia del deserto, gli antichi monumenti, un paesaggio reale e fantastico. Ma torniamo in Italia. Adesso Giordano Bruno Lattuada ci fa vedere il nostro bel parco di Monza, tanto verde, tanti alberi e quanta nostalgia di qualche passeggiata, ma ci potremo andare presto. E qui l'ultimo quadro che vediamo è il mercato di San Giovanni. Ora invece la piazza è la piazza Trento e Trieste e questa forse è proprio un'immagine dalla finestra. È quello che vi suggeriamo di fare. Questa immagine la potrete trovare in jpeg su facebook, la potrete scaricare e stampare oppure vi inventate una vostra finestra e realizzate un vostro personale magnifico quadro con una bella veduta. Grazie!